Si comincia Real Forio a Fragolese Tocco di mano, protestano tutti Cross di Mora, De Felice, poi Calise Pallone che si alza sulla traversa Sulla prima e unica occasione avuta dai Rosso Blu Ora prova a rispondere proprio alla Fragolese Attenzione, guardate il secondo gol Anzi, lo salvataggio sulla linea di Iacono, miracoloso Pallone per Chiaiese, la gira di prima per Trofa Poi Trofa va al tiro, il portiere non trattiene Poi in due tempi riesce ad intervenire Ha dirato, vince un rimpallo, pallone che resta lì Occhio a Trofa, pallone in area Chiaiese, sta arrivando Sanino che va al tiro col sinistro Incredibile! Sì, quindi alla fine sono sei Parte Calise, pallone a lato Tocco di De Felice, ancora Mora Tocco morbido per Chiaiese Poi forse fuori gioco di Iacono No, si gioca Pallone che finisce dall'altra parte Vitagliano, poi Trofa 1-1 Forio Assegliato Davide Trofa Si riparte con il secondo tempo tra Real Forio e Afragolese Difensore, ancora un anticipo di dilato Posizione regolare di De Felice Attenzione, De Felice a tu per tu con il portiere Ancora De Felice De Felice si fa rimontare dal difensore Vince il giocatore della Fragolese Che poi riesce a servire Di Paola Saltato Nicola Mora Occhio a Di Paola, sta arrivando Carotenuto Eccolo Carotenuto Ancora Carotenuto 2-1 Gran gol di Carotenuto Ora il lancio per Alecretta Che è in posizione regolare C'è tutto solo il numero 9 Borrelli Attenzione a Borrelli Pallone a lato Poi Pesce perde palla per l'ennesima volta De Felice Chiaiese Ancora De Felice Prova il tiro col sinistro La parata del portiere Cross a rientrare Esce il portiere male Porta vuota Chiaiese Non ne approfitta E non c'è il tocco di mano Perde palla Mora Allora attenzione a Coraccarotenuto Occhio adesso a Borrelli Pallone in mezzo E il gol Fuori gioco Annullato Annullato Ci sarà un turno infrasettimanale Poi il 5 aprile E il Real Forio sarà impegnato in casa Occhio adesso a Costaiola Di dato Pallone in mezzo Prova a girarsi Massimo De Luise Trattenuto L'arbitro era lì Non c'è calcio di rigore Nicola Mora Parte con il sinistro Pallone alto sulla traversa E finisce qui la partita La Fragolese vince 2 a 1